Com'è che le montavamo qui? Prima le controllavamo Se c'è proprio qualcuna che fa veramente Voi domani si è aperti? Domani si no? Malizio Io mi giusto con polvo rosso e le... Questa è per voi vero? Allora hai prenduto una sola adesso? No, adesso le prendiamo tutte... Tutte 30 Allora io le metto... Esatto Allora, plantiamo su e scuriamo Questa è apposta Questa è un po' Il proprio Il proprio Passiamo Un po' Un po' Grazie a tutti. 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 Roberto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.